Gioco di Tisa, Valsenales. Siamo sulle Alpi dell'Öztal, nelle Alpi Venoste. È qui che 5.000 anni fa morì un uomo il cui destino lo farà diventare famoso in tutto il mondo. 19 settembre 1991, i coniugi Simon scoprono i resti di quello che, nell'arco di pochi giorni, sarà per tutti e per sempre Ötzi. Una rarissima mummia, umida, perfettamente conservata grazie ad una serie di fortunate coincidenze meteorologiche e da quel giorno grazie anche alle tecniche e tecnologie che i suoi discendenti hanno affinato nell'arco di 5.000 anni. La provincia di Bolzano rende onore a questa storica scoperta grazie ad una serie di interventi in calendario dalla seconda metà di settembre. Ritengo che questo sia uno degli apporti più particolari che noi possiamo avere non solamente per lo studio delle persone di 5.000 anni fa, che sono necessarie anche per il futuro, ma anche per fare sì che da questi studi ne deriveranno poi anche dal punto di vista turistico una possibilità di distinguerci anche per un turismo culturale. L'importanza che Ötzi riveste a livello mondiale è ormai fuori dubbio. Altrettanto rilevante il suo ruolo quando si parla di effetti sul turismo e sull'indotto di un'intera ballata e non solo. È importante ricordare l'anniversario per capire quanto potenziale ha tutt'oggi questo ritrovamento, sia la mumia stessa come anche l'aredo. Le ultime ore di vita di Ötzi sono oggetto di analisi approfondite da anni, da quando si scoprì la presenza di una punta di freccia nel corpo della mumia. E dopo 5.000 anni il mistero non è del tutto chiarito. Questo progetto lo seguiamo adesso da due anni, siamo in contatto con la polizia di Monaco dove ci sono dei profile che adesso riguardano un attimo questo omicidio di Ötzi 5.000 anni fa e abbiamo dei risultati molto interessanti. Tutte le informazioni riguardo il fitto calendario di eventi in programma da metà settembre sono a disposizione sul sito internet all'indirizzo www.iceman.it